ciao amici da frank bianconero d'invita di iscrivervi al canale così ci divertiamo cresce il canale ovviamente come dico sempre tutto gratis lasciate un like e il commento e ditemi cosa ne pensate del mio dei miei video perché queste solamente ci mancherebbe la mia opinione quello che penso do il benvenuto a zladan imbraimovic per me un mito di classe di carattere di fortissimo ma permettetemi di dire che non è coerente un acquisto non coerente da parte del mila perché se si parte dei giovani ma arriva un giocatore di lui è dell 81 quanto me perciò farà 39 anni se non sbaglio settembre ottobre 2020 però alla fine avrà 39 anni perciò lui ovviamente è informissima fisicamente e questo significa che con almeno una decina di squadre in serie a può fare ancora la differenza perché come dico io il talento di libra chi lo discute perché negli ultimi vent'anni ci sono stati messi cristiano ronaldo e braimovic poi sono stati super campioni e to altri super campioni ma secondo me zladan ronaldo e messi negli ultimi vent'anni sono stati geni quelli che comunque da soli possono vincere le partite possono vincere qualche competizione anche se i braimovic ha avuto la sfortuna come buffon un'altra leggenda di non aver vinto con la champions league parlo di coerenza del milan non del giocatore in sé io sono un affezionato di braimovic a me piace braimovic fuori e dentro dal campo ma voglio dire agli amici e tifosi milanisti perché il milan io come sapete io c'è soltanto una squadra una società che sopporto meno gli altri invece ci parlo e ci ragiona tranquillamente sia sui video e sia con i tifosi non sarebbe mai un problema mentre di là è difficile anche parlare con i tifosi perché ora si sentono un po troppo in alto perciò bisogna stare attenti anche quando si parla quello che dicono ma la coerenza non esiste perché alla fine il milan che fa prendi braimovic e ripeto che non si discute dal punto di vista tecnico e in questo milan potrebbe fare ancora la differenza ma la situazione societaria societaria dice si parte esclusivamente dai giovani e si prende zlatan ma la cosa ancora più grave è che tifosi fuori così social libra prende la schiaffia allora innanzitutto nessun giocatore va in campo per perdere o non vincere ci sono le qualità le caratteristiche dei giocatori che in questo momento nel milan non ne hanno in tante ottime qualità nel milan a calcio sa giocare soltanto ve lo dico ora ernandez e li manca parecchia fase difensiva però quella si può migliorare ma come giocatore come inserimento come corsa come fisico è uno dei migliori in europa come terzino sinistro buonaventura se sta bene speriamo di sì perché può servire neanche il nazionale e leao che viene criticato ma leao non è assolutamente male e poi arriverà zlatan come dico sempre un giocatore non può far vincere le partite sempre solo lui 3 può far vincere 3 4 ma per raggiungere gli obiettivi o hai un sistema di squadra un gioco e dei giocatori veramente forti che insieme a zlatan aumentano il tasso perciò aumenti le possibilità di vittoria o se non solo zlatan può fare poco c'è nel senso anche zlatan può fare poco con una squadra del genere e basta dire prendigli a schiaffi perché nessuno si farà prendere a schiaffi riprovererà qualcuno giovane soprattutto e se intelligente sono tutti i consigli da prendere nel verso giusto anche se il carattere di zlatan può essere un po impulsivo ma io sono contento che arrivate in italia perché dopo ronaldo arriva un altro grande giocatore è vero che stiamo cominciando un po a prenderli sempre un po troppo in là con l'età perché ivra è stato nei momenti belli italiani ora è tornato dopo due anni del campionato americano perciò io mi auguro di vedere ancora qualche numero vedere qualche screzzo ancora perché comunque un giocatore che ti dà emozioni se segna se non segna quando segna quando si arrabbia un giocatore sempre che ti tiene ben stimolato sia per i tifosi stessi del milan e sia per chi appassionato come me del calcio e di ibra soprattutto perciò benvenuto zlatan speriamo di assistere a tanti bei numeri suoi ma mi occorre dire che la squadra del milan in questo momento storico sempre super rispettata negli anni vincenti ma in questo periodo storico anche zlatan può fare ben poco rispetto alla qualità dei giocatori chian rosa ciao a tutti da frank bianconero iscrivetevi al canale